Il caso sembrava risolto da un anno dopo che regione, provincia, parlamentari europei e italiani e sindaci si erano uniti in sinergia. Ma adesso il problema delle possibili trivellazioni dei pozzi di petrolio alle isole Tremiti è tornato. Questo perché il Ministero dell'Ambiente ha ufficializzato il parere positivo per la ricerca di petrolio in mare a 26 chilometri dalle diomedee da parte della multinazionale irlandese Petro Celtic Elsa. Il sì definitivo della Prestigiacomo segue quello del Ministero dei Beni Culturali. La Petro Celtic è dunque autorizzata a compiere quelle che in gergo vengono definite riflessioni sismiche nel mare, cioè un metodo per riconoscere l'assetto stratigrafico e strutturale dei corpi geologici tramite micro esplosioni che però potrebbero essere dannose a cetacei e delfini. Nel caso dovesse esserci il petrolio nel sottosuolo la ditta potrebbe realizzare un pozzo esplorativo e dare il via ad un vero e proprio scempio visto che l'arcipelago che fa parte del Parco Nazionale del Gargano è considerato riserva marina perché scrigno di migliaia di biodiversità.